A presto di stai con il prossimo episodio in mezzo una volta Vado a dire adesso il turno di Carlo Ok Va bene Vi ho raggiunto il numero di soccicchia Potremmo un applauso, un cazzo un po' insomma, ne approfittiamo, grazie, ok Ok, siamo pronti allora, torniamo su La prossima ritorna da KTM Facciamo di bagnozera, la figura di Carlo Canesana Siamo ancora Siamo andati così che è meglio, vai Allora, nuovamente Come facciamo? Il numero di soccolo, vero Carlo Canesana Siamo andati Posizione, fugga a sé Perché, nuovamente parola Va bene, voglio dire, c'è il dboi Anche qui le protagoniste, le preseme le trosse Io rawmigna Mamma mia, me lo scalda la giornata Cosi tu fanno metals Mi bagno in solla con i fangoli Attenzione E' il dboi Non si ridosce Trocchi perla dalla manca, una volta Buona morita di Carlo Canesana Ci vai nel vero Io ho capito quello che vuole fare, non voglio quale usci tutto nulla e lo volete dovete andavamo qui su poiché voglio dire ovviamente è lui in condizione super caldo ok primo seguente camionetano attenzione la sua volta qui attenzione 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 ebbene allora si continua attenzione nuovamente questa figura poi è un momento solo per voi questa visita dobbiamo farci sentire giudizia fenomenalmente capito 2 punti 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 il momento delle presentazioni vi raccomando lo sapete nome casino questo deve essere la sequenza quindi portiamo dal primo pilota presente Yamaha numero 18 sempre e solo Carlo Carisola 5 6 6 7 7 8 8 9 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12